ragazzi è arrivato un pacchetto curiosi e allora ragazzi per chi non li conoscesse ancora questi sono i taco age essential sono artificiali mirati alla pesca del polpo e sono stati realizzati da in pesca tre colorazioni diverse per coprire tutto l'arco della giornata dall'alba al tramonto possono anche essere illuminati al buio avendo colorazione glow le dimensioni del corpo sono 3.5 per un peso di 35 grammi hanno un sistema di rattling interno per essere ancora più adescanti l'armatura ha un doppio punto di aggancio e inoltre sono presenti cinque ami rivolti verso l'alto in modo da ridurre il rischio di ingaglio gli ami sono di misura diversa e senza arviglione così possiamo facilitare un eventuale rilascio nel caso la nostra preda sia sotto misura per quanto riguarda i granchetti in silicone ovvero i taco crab si possono usare sia così oppure in combinazione con la polpara artigianale realizzata da in pesca sarebbe una rivisitazione della classica polpara e la trovate nello shop online di in pesca io vi metterò il link in descrizione per chi fosse interessato o forse curioso di andarla a vedere devo dire che sono le granchiette davvero buon fatti e hanno un bel movimento un ringraziamento davvero san mario per quello di cui mi ha omaggiato belle 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 vediamo se riusciremo a usarli a dovere come meritano ringrazio mario e vi terremo aggiornati sul canale e sui vari social grazie